Sono Giovanna. È il 1485. Il regno di Aragona ha ripreso Napoli ai francesi. Le tensioni tuttavia persistono. Spesso a Roseillon e a Fuente Arrabia si scatenano scaramucci di confine. Per imprimere un sigillo all'alleanza con il casato degli Asburgo, destinata a isolare il re di Francia Luigi XII, i miei genitori decidono di combinare un doppio matrimonio. Mio fratello Giovanni, principe ereditario, e io ci sposeremo con i figli di Massimiliano d'Austria e Maria di Borgogna. Giovanni con Margherita d'Austria e io con l'arciduca Filippo. Per bandire l'idea di conflitti senza fine, arretratezza e anarchia che prima della presa del potere da parte dei miei genitori si aveva nel nostro paese, in Europa, mio padre e mia madre stanno progettando le nostre nozze come un'occasione per ostentare la magnificenza dei loro regni. Che non si dica più che la corte spagnola manca della brillantezza e della sontuosità di quella dei loro vicini. Mia madre farà di persona la supervisione e organizzerà l'armata che dopo aver portato me nelle fiandre, ritornerà con la principessa Margherita, futura regina di Spagna. Il patto matrimoniale dispone che nessuna delle due fidanzate abbia una dote. Ciascuno dei due sposi approvvigionerà la propria casa e provvederà alla propria corte con i proventi delle rendite stabilite. Questa disposizione più avanti risulterà nefasta per me, ma in quel momento di concordia e di buone intenzioni nessuno dubita che non siano misure corrette. Ignara, dei particolari che i miei genitori stavano discutendo con gli ambasciatori borgognoni, io mi preoccupai soltanto di impressionarli. Mi vestì con un abito cremisi di velluto pesante e molto scollato. Legai al collo un nastro di setta nera dal quale pendeva il rubino che mia madre mi aveva regalato per il mio fidanzamento, così abbigliata, con i capelli raccolti in una crocchia, che tendendomi la pelle metteva in risalto la forma a mandorla e la grandezza dei miei occhi. Mi affacciai al balcone del salone delle udienze, proprio nel momento in cui calcolai che non sarei passata inosservata. Gli sguardi dei nobili non si fecero attendere. Mi fece piacere percepire l'approvazione evidente nei loro mormori in francese, nei loro sorrisi e nelle riverenze. Compiuta la mia missione, mi ritirai. Non tardò molto a comparire a Eleonora, una delle più giovani dame di compagnia di mia madre. Tra le risate raccontò che uno degli ambasciatori aveva chiesto alla regina l'autorizzazione di farmi ritrarre dal pittore fiammingo Michel Citeau. La corte borgognona e il mio futuro sposo avrebbero così conosciuto in anticipo la veridicità delle parole con cui loro avrebbero descritto la mia bellezza. Dal momento in cui si era deciso il fidanzamento, la mia vita aveva cominciato a ruotare totalmente attorno ai preparativi delle nozze. A differenza di mia sorella Isabella, che aveva sposato il principe Alfonso di Portogallo, erede al trono, io non mi sarei sposata con un futuro re. Tuttavia i preparativi per il mio trasferimento nelle Fiandre furono i più sontuosi e ricchi di cui si avesse memoria la corte castigliana. Erano trascorsi appena quattro anni, dalla riconquista di Granada, dalla conquista delle isole Canarie e dalla scoperta delle Indie occidentali. In quei quattro anni il regno dei miei genitori si era confermato come uno dei più prosperi e solidi d'Europa. Le notizie delle enormi ricchezze scoperte nelle Indie, dove si vociferava, esistessero città intere costruite in oro e argento, e la fermezza dei miei genitori nell'imporre in tutta la penisola il mandato della corona, e nel soggiogare sia la nobiltà ribelle sia il clero corrotto, annunciavano tempi gloriosi per coloro che Papa Alessandro VI aveva battezzato i re cattolici. Non avevo mai visto mia madre mostrare più brio di quello esibito quando si dedicò all'allestimento della grandiosa flotta che mi avrebbe portata nelle fiandre. I preparativi per il mio viaggio cominciarono nell'estate del 1495. Fin dalla primavera la corte reale si era trasferita nella villa di Almasan, dove i re avrebbero controllato la costruzione della flotta nei cantieri del Cantabrico. Fu un periodo molto felice per me. Mio padre, che fino ad allora non mi aveva dedicato molta attenzione, si trasformò in mio amico e complice, mi faceva sedere sulle sue ginocchia o mi portava ai cantieri per mostrarmi il progresso degli artigiani che costruivano le caracche genovesi che avrebbero trasportato il mio numerosissimo seguito, alle quali si sarebbero sommate altre 15 vizcaine e 5 caravelle per i 5.000 soldati che mi avrebbero accompagnata per garantire la sicurezza della navigazione nelle acque della nemica Francia. Io godevo nell'osservare l'effetto che la sua presenza aveva su quella moltitudine di lavoratori affannati. Il potere giovava mio padre, che aveva l'innato dono dell'autorevolezza. Il suo corpo forte e atletico occupava più spazio di quello che fisicamente gli toccava. Anche i cortigiani di più alto lignaggio istintivamente si tenevano a prudente distanza di fronte a lui. L'accoglienza a me riservata, quando mi avvicinavo, mi faceva sentire infinitamente speciale e importante. Riconoscevo con orgoglio in certi miei tratti qualcosa del suo modo di fare e se prima mi sforzavo di addolcire il mio carattere e di comportarmi da damigella compiacente, in quei mesi imparai i vantaggi del non falsificare le mie opinioni, del non sacrificare le mie idee per conquistarmi l'ingannevole e momentanea approvazione di cortigiani adulatori. Mia madre si compiaceva vedendoci tanto vicini. Sfortunatamente quella parentesi di felicità filiale durò pochi mesi. Alla fine di giugno i francesi tornarono ad attaccare Perpignan e mio padre in luglio andò in Catalogna. Ricordo che salutandomi mi chiamò reginella. Disse che sul suggerimento di Juan de Arbolancia mia madre aveva chiesto che le centinaia di imbarcazioni laniere che viaggiavano verso le fiandre scortassero la comitiva nuziale. 132 navi sarebbero salpate simultaneamente. «Non sposerai un re?» sorrise mio padre. «Ma nessuno dubiterà che tu meriti di essere regina». Salì sui merli per vederlo partire e ci rimasi fino a quando la sua guardia a cavallo scomparve. Sapevo che non lo avrei rivisto per lungo tempo e che tutto sarebbe stato diverso. Non immaginavo quanto. Fu mia madre allora che si occupò di armare le navi. Selezionò i 5.000 soldati che mi avrebbero accompagnata. Istruì gli oltre 2.000 membri del mio seguito sui particolari della vita accorte nelle fiandre. All'alba del 20 agosto tutto era pronto per la partenza. Il pomeriggio all'improvviso si scatenò una tempesta nel golfo di Biscaglia. Io mi ero appena sistemata nel mio alloggio. Era costituito da un'ampia stanza e da una camera con il letto addossato alla fiancata della nave. Una spessa tenda di velluto rosso separava le due zone. Nell'anticamera c'erano delle sedie, un piccolo scrittoio, un divano e un armadietto per i miei strumenti musicali. Accanto a me mia madre guardava dagli oblò coperti da tele di fiandra l'orizzonte scuro e le onde agitate del mare. Almeno il calore si era attenuato e ci stavamo godendo un momento di solitudine dopo il trambusto dell'imbarco. Avremmo atteso insieme il passaggio della tempesta, disse. Forse quei momenti erano un dono che ci veniva concesso prima di separarci. Sarai lontana, Giovanna. Sei giovane ed emotiva e temo per te nella corte delle fiandre. Dal momento in cui i miei piedi attraversarono il ponte di prua della caracca del capitano Juan Perez, tra sacchi e carichi di vario genere, compresi che il bagaglio che più contava lo portavo dentro di me, era la mia nobiltà, il sangue dei miei lustri antenati, la spagna del mio cuore. Quando mia madre si congederà e sbarcherà, sarò io l'ancora e il motore di questa spedizione. Sarà a me che obbedirà il seguito. Intanto godo l'intimità inaspettata con Isabella. Godo nel vedere come la tenerezza alleggia sul suo viso e dona ai suoi occhi un brillio che non avevo mai visto prima. Lacrime. Ma è possibile? Dormiamo nello stesso letto. E da quando ero molto piccola che non la vedo in camicia da notte. Priva dei suoi abiti regali è soltanto una donna sulle cui spalle scende un roscello di capelli lunghi e brizzolati sul volto affilato adagiato sui guanciali. Devo chiedere alla mia bocca un atteggiamento malinconico, chiudere gli occhi perché lei non percepisca l'esaltazione che al di là del timore provo all'idea di vivere presso la corte delle fiandre come sposa dell'arciduca di Borgogna. Fin da piccolo ho udito raccontare dello splendore e della vivacità di quella corte. Ho ammirato le opere dei suoi squisiti orefici, le impareggiabili armature dei fabbri, gli arazzi delle tessitrici, più che conosciute la magnificenza dei suoi tornei come il fasto dei banchetti e delle feste. Ho anche sentito delle critiche mordaci sui licenziosi costumi della nobiltà fiamminga. Mi è sempre sembrato di intuire un tono di invidia in coloro che più si scandalizzavano per la liberalità di quella corte, per le pratiche che, a loro dire, erano contrarie all'austerità castigliana. Ultimamente capita che da noi persino la più piccola manifestazione di scarsa modestia diventi un motivo sufficiente perché intervenga il severo tribunale della santa inquisizione. Mia madre fissa gli occhi su di me e mi guarda come chi vede se stesso allo specchio. È con me, ma so che è anche lontana, che la sua mente vede al di là di ciò che vede. Mi domando se sta ricordando le nozze con mio padre, avvenute in segreto e contravenendo alla volontà di suo fratello, il re Enrico IV. Mi ha raccontato degli stratagemmi adottati da mio padre per entrare nel castello di Medina del Campo, dove si svolse l'intima e segreta cerimonia. Anche lei, quando si sposò, avrà sentito l'ansia e il turbamento che sento io, aggravati nel suo caso dall'incertezza di sapere se avrebbe occupato il trono di Castiglia. Non dimenticare i tuoi doveri verso la Spagna, mi dice. Tuo padre e io abbiamo impegnato la nostra gioventù, la nostra salute per unificare questo paese. Questo tuo matrimonio farà di noi degli alleati importanti e rafforzerà la nostra posizione di fronte alla Francia. Comportati per quello che sei, una principessa di Castiglia e Aragona, che non si lascia sedurre dalle loro adulazioni o dai loro eccessi. Hai un seguito sufficientemente numeroso perché tu possa sentirti circondata dalla tua gente. Appoggiati a chi presiede la tua corte, al nostro ammiraglio Don Fadrique Enríguez, uomo nobilissimo, e alla nobiltà di Beatrice di Bobadilla, giovane massaggia. Poiché non conosci ancora tuo marito, forse il matrimonio ti sembrerà strano, ma la gioventù di tutti e due sarà terra arata per i semi che vorrete piantare. Proponiti di amarlo e l'amore ti si concederà. Non essere schiva e controlla il tuo temperamento focoso. Il fuoco nelle donne spaventa gli uomini. Devi contenerlo con discrezione perché non scateni acquazzoni che finiranno per spegnerlo. Mia madre continua a parlare e la sua voce va e viene nelle mie orecchie al ritmo del rollio della nave sull'acqua, al ritmo delle raffiche di vento sul golfo di Biscaglia in questa notte buia illuminata a tratti dal bagliore di lampi lontani. Il giorno seguente piove. Io rimango nel mio alloggio. Mia madre si tiene occupata davanti alle dame di corte controllando i rifornimenti del viaggio. La sera lei e io ceniamo con Beatrice Galindo. Alla fine del pasto Beatrice strae dal corpetto un flaconcino preparato dalle schiave arabe. Un filtro d'amore mi dice che devo bere e far bere a mio marito. Le hanno assicurato che è infallibile. Farà sì che ci ameremo sino alla fine dei nostri giorni. Beatrice versa metà della pozione nella mia coppa di vino e la bevo senza dire una parola pensando a Isota e ai pericolosi equivoci dell'amore. Mia madre e Beatrice ridono come bambine che hanno compiuto delle monellerie. Vedremo se funziona dice la regina e non raccontarla a tuo padre. Questi sono segreti di donne. Ridevamo ancora quando si presentò alla porta l'ammiraglio della flotta Don Rancio di Bassan per informarci che la tempesta era scemate che si avvicinava a un vento favorevole. Con il permesso della regina avremmo salpato molto presto il giorno seguente. Mia madre lo dò alla provvidenza e diede il consenso per la partenza. Discreta com'era Beatrice se ne andò e ci lasciò sole. Dormimmo poco quella notte pensando che forse non saremmo mai più state insieme. Vedrai quanto è duro Giovanna separarsi dai figli. Se nella vita quotidiana mentre crescete vi si guarda e non si pensa che siete venuti alla luce dalle proprie viscere basta un pericolo o un addio perché il corpo si ribelli e il sangue desideri ardentemente correre dietro alle vene che un giorno ha alimentato. Ma è una legge della vita che il più grande amore sia quello che si dà totalmente senza chiedere nulla. Mi sento infinitamente triste e infinitamente felice. Triste perché perdo la mia bambina. Felice perché acquisto un'aleata in un'impresa che farà più grande e prospera la Spagna. Spuntava appena l'alba del giorno dopo quando tutto fu pronto. L'addio si prolungò con il baciamano della comitiva alla regina e con le raccomandazioni di lei. Infine arrivò il mio turno. Sentì il cuore di mia madre quando mi strinse al petto come batteva forte. Non volevamo piangere ma nemmeno staccarci l'una dalle braccia dell'altra. Non dicemo niente. Lei mi fece il segno della croce sulla fronte. Mi ginocchiai e baciai la sua mano. Mia madre rimase sul molo e io sulla caracca in coperta fino a che la distanza non cancellò la costa e rimasi sola davanti al mare senza fine e al cielo chiaro e azzurro di un giorno insolitamente limpido. Mi sembrava di viaggiare su una cometa che trascinava una lunga coda. I colori brillanti delle banderuole e dei pennacchi che adornavano gli alberi delle 131 imbarcazioni che mi accompagnavano ondeggiavano fino a dove arrivava la mia vista. Era uno spettacolo splendido. Mi sentì l'eroina di una canzone d'amore cantata da giullari. In compagnia di Don Fadriche e degli altri cavalieri delle dame di corte passai molte ore di quei primi giorni sulla caracca in coperta a guardare le onde e i branchi di delfini che ci accompagnavano per lunghi tratti saltando con leggerezza accanto alle imbarcazioni. Navigavamo a coppie. La mia caracca genovese occupava il centro della flotta. Dopo tre giorni di navigazione sicura e senza intoppi si scatenò una furiosa tempesta che ci obbligò a ormeggiare nel porto inglese di Portsmouth. Durante il giorno che dovetti passare a terra ricevetti l'omaggio dei nobili inglesi. Si presentarono senza indugio non appena corse la voce della città galleggiante comparsa nelle acque del porto. Fui ospitata nel castello di Porchester in riva al mare. Era una costruzione antica con saloni scarsamente illuminati ma i nostri anfitrioni fecero tutto il possibile per sistemarci comodamente. Dopo aver sopportato per otto ore un mare infuriato la maggior parte del mio seguito era una rovina di volti pallidi e disfatti. Poiché la navigazione non aveva colpito né il mio equilibrio nel mio stomaco sembrai agli inglesi di singolare bellezza come ripetevano in continuazione. Soltanto anni dopo seppi che lo stesso re Enrico VII era venuto in segreto per contemplarmi da lontano poiché il protocollo non permetteva che un re si spostasse dalla sede del trono per ricevere una principessa. Evidentemente avevano favoleggiato tanto sulla mia bellezza che non aveva potuto resistere alla tentazione di vedermi di persona. Secondo me aveva voluto soddisfare la sua curiosità. Mia sorella Caterina stava per fidanzarsi con suo figlio ed era venuto a vedere la stirpe con cui stava per imparentarsi. Dopo quell'incidente continuammo il viaggio senza altri contrattempi finché non toccamo i banchi di sabbia della nostra meta. Il porto di Arnemuiden nelle Fiandre dove arrivai il 9 settembre del 1496. Ancora in alto mare mi trasferirono in una vizcaina con la quale arrivai in quella che sarebbe stata la mia patria adottiva. Intanto un'altra caracca genovese carica di doni per la corte fiamminga si era incagliata e stava imbarcando acqua dalla chiglia. Il mio corredo, consistente in più di 50 bauli, avrebbe dovuto viaggiare proprio su quella nave. Per fortuna all'ultimo momento mia madre aveva disposto di trasferire tutti i miei oggetti personali sulla nave bandiera, cosicché non lamentai troppe perdite, anzi insistei perché si impiegassero tutte le viscaine disponibili per raccogliere i naufraghi e alla fine non ci furono vittime tra i passeggeri, i membri dell'equipaggio. Per trasferirmi sulla viscaina che mi avrebbe portato a terra avevo voluto indossare uno dei miei più bei vestiti trapuntati d'oro, ignorando il parere di don Fadriche, di donna Beatrice e delle altre dame del mio seguito. Volevo esibire la mia carnagione, i miei capelli neri, distrarre l'attenzione dal mio cuore che batteva il tempo con un enorme orologio. Lo sfarzo degli abiti, le balze, le stecche della gonna trasformarono lo spostamento in alto mare sulla viscaina in un'impresa. Fu necessario calarmi dalla nave come un inutile e pesante fardello. Lo sopportai pensando allo sguardo abbagliato del mio promesso. Giunta a terra però si avvicinò ad accogliermi un gruppo di austere dame spagnole. Angosciante senso di ridicolo che mi colse mi mise di pessimo umore. Non mi ero mai sentita così umiliata. Pensai allo sforzo di mia madre per sfoggiare la gloria di Spagna attraverso quella grandiosa flotta che dalla costa rendeva all'orizzonte la via pavesata di una grande città in un giorno di festa. Tanta arroganza da parte di quella gente mi sconcertava. Donna Maria e Don Balduino dissimulavano la loro contrarietà. Erano abbigliati alla moda borgognona. Lei con un copricapo molto alto, un abito di finissimo broccato rifinito con polsini e colletto di merletto. Lui in pantaloni a mezza gamba, calze sottili, color ocra, scarpe di pelle scamosciata con arabeschi e una pettorina a rombi intrecciati con fili d'oro. Donna Maria, molto loquace, era avida di notizie sulla corte castigliana e a sua volta ci informò dei preparativi per il viaggio di Margherita, la promessa sposa di mio fratello Giovanni. Nella carrozza che ci portava al nostro alloggiamento, lontano da orecchie indiscrete, Donna Maria ci informò del fatto che, nonostante mio suocero l'imperatore Massimiliano condividesse la posizione spagnola per la quale era necessario isolare Valois, i consiglieri che circondavano fin da piccolo Filippo e buona parte della nobiltà borgognona privilegiavano le relazioni con i francesi. Diffidavano della potente flotta, della quantità di soldati e del numeroso seguito che mi accompagnava. Lo consideravano la dimostrazione inequivocabile di quell'influenza che dopo il mio matrimonio i re cattolici intendevano esercitare sulle fiandre. I fiamminghi erano ben intenzionati a ignorare il potere della Spagna. La corte ammirava la Francia, criticava invece noi altri considerandoci grezzi, rigidi, arroganti e bigotti. Dovete sapere, Altezza, che il vostro promesso sposo, l'arciduca, non solo viene chiamato Filippo il Bello ma anche Filippo il Consigliabile, Croa Conseil, perché si fida ciecamente dei suoi consiglieri. L'arciduca ha chiesto che andiate a Bruges, dove ha preparato un ricevimento, intervenne Don Balduino. Ma potreste scegliere di venire con noi a Bergen-Hopzom? Il signor Jean de Berges mi ha chiesto di estendervi un cordiale invito perché assistiate al battesimo della figlia e le facciate da madrina. Berges è il ciambellano dell'arciduca, ma è fedele alla corona di Castiglia e Aragona, aggiunse Donna Maria con un sorriso malizioso sulle labbra sottili. La chiara insinuazione non mi sfuggì. La verità era che in quel momento niente mi sembrò più opportuno che scompigliare i programmi del mio futuro sposo. Non mi ero ancora ripresa dal colpo di calore causato dal disappunto di dover camminare con il mio vestito dorato e senza cavaliere davanti alla folla che si era raccolta nel porto. Mi piacciono molto i battesimi, risposi. Ci sarà tempo per visitare Bruges.